Giovedì 11 giugno ci troviamo a Roma, la casa dell'architettura per un workshop ed infoprogetto organizzato da Action Group Editor in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Roma. Si parla di design applicato al mondo del benessere e dell'igiene, parleremo anche di progettazione a redobagno, di spa e di wellness. Abbiamo ascoltato tanti specialisti del settore, tante aziende presenti e allora andiamo a vedere questo servizio che abbiamo realizzato. Il convegno è senz'altro utile, c'è stato un livello di attenzione, ripeto, molto elevato, soprattutto verso i prodotti di ultima generazione, soprattutto verso il progetto legato proprio alle trasparenze, a questa ricerca, a questo sviluppo che stiamo facendo noi. Le aziende che producono oggetti di qualità, che sono esito di processi di ricerca molto lunghi, hanno bisogno di avere dei momenti di contatto ravvicinati con quelli che poi saranno gli advisor, chiamiamoli così, del prodotto e cioè gli agenti dell'innovazione che sono gli architetti fondamentalmente che oggi devono essere molto competenti e molto preparati su quello che l'industria offre attraverso lunghe ricerche e sperimentazioni. E quello è proprio un anello debole di tutta la catena che questi eventi come questo cercano di ricucire, insomma di riallacciare. Oggi è molto importante anche proporsi in maniera innovativa sul mercato. Questo tipo di convegni possono essere una strada interessante da perseguire? Sono secondo lei utili? Senza ombra di dubbio. Sono utili prima di tutto per il tipo di pubblico. L'architetto oggi per quanto ci riguarda è un punto di riferimento, è molto importante. Molto importante perché l'architetto fa delle scelte e quindi avere l'occasione di incontrare una platea come oggi a Roma, ci sono veramente un numero molto importante di architetti, è un'occasione, una vetrina che ci consente di mostrare a loro tutti i nostri prodotti. Questi momenti di confronto anche sono utili secondo te? Sono assolutamente utili, anzi per noi sono fondamentali, sono fondamentali per noi perché ci danno la sensibilità di quello che sono poi i problemi reali che l'architetto va a incontrare tutti i giorni sul mercato. Pur avendo una capacità produttiva e tecnica molto avanzata, forse non abbiamo un'elevata visibilità sul territorio. Questo convegno ci ha dato la possibilità di poterci far vedere a persone, presso persone qualificate e che quindi normalmente utilizzano i nostri sistemi per gli appartamenti. Il convegno è importante perché ci permette di relazionarci con le altre persone, architetti e conoscere e avere altri contatti e poter discutere anche con loro di quello che loro fanno ma soprattutto portare a loro anche le nostre conoscenze, quindi le conoscenze condivise sostanzialmente. Grazie